allora noi stiamo parlando di bello con questi ti dicevano eventi non ho visto nessuno cioè so che c'è un qualcosa domani sono anche un evento interessante in piazza per esempio a duomo stavano facendo un evento molto interessante in un certo punto c'era un palco bellissimo che stavano appunto domanda nel senso il tocco casuale appunto se so prendere una cosa mi posso comunque tranquillamente avvicinare random se io non ti respingo si quindi fashion ti dicevo sì non ho visto un buon nessun evento interessante cioè delle mie amiche sono andate però dai dai fai l'associazione cazzo è facile e dai dai fashion week ha comunque questo cazzo non vergognatevi cioè nel senso questa camicia mi libera di vendere le foto che ma non basta che non lo so l'ho presa poco preso da zara e comunque sta benissimo con questo anello veramente bello vuoi dire dove l'hai comprato molto carino me l'ha regalato penso boh mia zia tipo si e poi posso continuare a portare continuo a parlare e hai visto qualche evento niente no non si deve qualcosa ma fermo perché stai processa in discoteca senza mai visto qualche evento mi puoi consigliare qualcosa poi dimmi dove l'hai comprato troppe domande fai da un cazzo uno due interrogatorio poi fashion beh però aspetta ferma fashion week mi stai dicendo che non sai nulla però ora ferma cioè tu vestitina così carina vuoi dimmi che non ne capisci niente di moda dai dimmi la verità quanto l'ho toccato in una cazzo di frase da fashion week outfit lui come si veste mi ha detto che non conosce i 20 dai cioè tu vestita così carina dai dimmi la verità dai dimmi la verità non hai mai visto nulla dai non ci credo più sicurezza raga cioè vi state cagando in mano tipo questo anello puoi dirmi dove l'hai comprato ehmhm ehm 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 ehm